tolstoi il vecchio nonno e il nipotino un nonno era molto vecchio le gambe non lo reggevano gli occhi non vedevano le orecchie non sentivano e dente in bocca non ne aveva più quando mangiava perdeva la saliva il figlio e la nuora avevano smesso di farlo sedere a tavola con loro e gli portavano da mangiare dietro la stufa gli mettevano il cibo in una scodella un giorno mentre se la portava alla bocca la scodella gli sfuggì di mano e cadde a terra e si ruppe la nuora prese a inveire contro il vecchio che rovinava tutto in casa e aveva rotto la scodella e gli disse che d'ora in avanti gli avrebbe dato il cibo in una ciotola di legno il vecchio sospirò ma non disse nulla una volta il contadino e sua moglie erano in casa e guardavano il loro figlioletto che armeggiava in terra con certe tavolette di legno cercando di unirle tra loro che fai miscia gli domandò il padre rispose il bimbo io babbo preparo una ciotola e in questa ciotola quando tu e la mamma sarete vecchi vi darò da mangiare il contadino e la moglie si guardarono e cominciarono a piangere si vergognarono di aver offeso il vecchio e da allora lo fecero sedere di nuovo alla loro tavola e si presero molta cura di lui il vignaiuolo e i figli un vignaiuolo voleva istruire i figli nel suo mestiere quando fu in punto di morte li chiamò a sé e disse ecco figliuoli allorché sarò morto cercate nella vigna ciò che vi ho nascosto i figli credettero che là vi fosse un tesoro e quando il padre fu morto cominciarono a scavare e zapparono tutto il terreno non trovarono il tesoro ma avevano così ben rivoltato la terra che la vigna dia dei frutti molto più abbondanti ed essi diventarono ricchi un'eredità in parti uguali un mercante aveva due figli il maggiore era il prediletto del padre e il padre aveva lasciato a lui tutta l'eredità la madre si angustiava per il figlio minore e pregò il marito di non dire ancora ai figli come avrebbe fatto le parti essa voleva riuscire in qualche modo a mettere i due figli nelle stesse condizioni il mercante le diede ascolto e non manifestò la sua decisione un giorno la madre seduta alla finestra piangeva si accostò alla finestra un viandante e le chiese perché piangesse essa rispose come potrei non piangere tutti e due i figli per me sono uguali e invece il padre vuole dare tutto a uno e niente all'altro ho pregato il marito di non rivelare la sua decisione ai figli sino a che io non avrò trovato il modo di aiutare il minore ma non ho denaro e non so come fare rispose il viandante è facile trovare rimedio al tuo dolore vada ai tuoi figli e fa loro sapere che il padre lascerà tutta la sua ricchezza al maggiore e niente al minore e finiranno con le vere parti uguali il figlio minore quando seppe che non avrebbe avuto niente partì per paesi lontani e imparò scienze e mestieri mentre il maggiore continuò a vivere nella casa paterna e non imparò mai niente perché sapeva che sarebbe stato ricco quando il padre morì il figlio maggiore non sapeva far niente e si mangiò tutte le sue fortune il minore invece che aveva imparato a guadagnarsi la vita in paesi lontani diventò ricco padre e figli un padre raccomandava ai figli che vivessero d'accordo ma essi non gli davano ascolto il padre un giorno si fece portare un fascio di ramoscelli e disse spezzatelo per quanti sforzi facessero i figli non vi riuscirono allora il padre sciolse il fascio e ordinò di spezzare i ramoscelli a uno a uno ed i figli facilmente spezzarono un rametto dopo l'altro disse allora il padre così è anche per voi se resterete uniti nessuno potrà avere su di voi il sopravvento se invece litigherete e vi separerete chiunque vi potrà facilmente sopraffare i due compagni due compagni camminavano per un bosco quando balzò fuori un orso il primo si diede alla fuga si arrampicò sopra un albero e si nascose tra i rami il secondo rimase sul sentiero non gli restava altro da fare che buttarsi a terra e fingersi morto l'orso gli si accostò e prese ad annusarlo e l'uomo smise persino di respirare l'orso gli fiutò il viso credette che fosse morto e si allontanò quando l'orso fu scomparso l'altro compagno scese dall'albero e mettendosi a ridere disse cosa ti ha detto l'orso all'orecchio mi ha detto che valgono poco gli uomini che fuggono nel pericolo abbandonando i compagni il re e la camicia un re era ammalato e disse ai suoi ciuditi darò metà del mio regno a chi saprà guarirmi si riunirono tutti i sapienti per trovare il modo di far guarire il re ma nessuno sapeva trovarlo uno soltanto tra quei dotti disse che era possibile guarire il re e spiegò se si trova un uomo felice gli si toglie la camicia la si fa indossare al re e il re guarirà subito il re mandò gente per tutto il regno alla ricerca di un uomo felice ma i messi viaggiarono a lungo da ogni parte senza riuscire a trovare un uomo felice non c'era nessuno che fosse del tutto contento chi era ricco era ammalato chi era sano e anche ricco aveva una cattiva moglie altri avevano cattivi figliuoli ognuno si lamentava di questo e di quello una volta il figlio del re passando a tarda sera davanti a una casupola udì là dentro un tale che diceva ecco, salutato il Dio oggi ho lavorato e ho guadagnato ho mangiato e ora vado a dormire di che altro ho bisogno? il figlio del re si rallegrò e ordinò che si togliesse a quel uomo la camicia gli si desse in cambio quanto denaro voleva e si portasse la camicia al re i messi si recarono dall'uomo felice per togliergli la camicia ma quel uomo felice era così povero che non aveva indosso neppure la camicia il vecchio e la morte un vecchio che era andato a far legna se l'era caricata sulle spalle per portarla a casa ma doveva portarla lontano si sentì spostato posò il suo carico ed esclamò ah se venisse la morte la morte venne e gli disse eccomi qui di che cosa hai bisogno? il vecchio si spaventò e rispose che mi aiuti a sollevare il carico il giudice giusto un re di Algeria Bawakas volle assicurarsi di persona se era vero ciò che gli avevano detto e cioè che in una delle sue città viveva un giudice giusto che sapeva subito riconoscere la verità nel quale nessun imbroglio poteva sfuggire Bawakas si travestì da mercante e a cavallo si diresse verso la città in cui viveva il giudice all'entrata della città gli si avvicinò uno storpio e gli chiese l'elemosina Bawakas gliela fece e volle proseguire ma lo storpio si afferrò al suo abito che cosa vuoi? chiese Bawakas non ti ho già fatto l'elemosina me l'hai fatta? sì rispose lo storpio ma fammi ancora una grazia portami sul tuo cavallo fino alla piazza ho timore di venir travolto per strada dai cavalli e dai cammelli Bawakas fece sedere lo storpio dietro di sé e lo condusse sino alla piazza sulla piazza Bawakas fermò il cavallo ma il mendicante non scese disse allora Bawakas perché stai ancora lì seduto scendi siamo arrivati rispose il mendicante perché dovrai scendere il cavallo è mio e se non vuoi rendermelo con le buone andiamo dal giudice intanto si era radunata intorno a loro molta folla che li ascoltava discutere poi tutti gridarono andate da giudice giudicherà lui la faccenda Bawakas e lo storpio andarono dunque dal giudice in tribunale sarà folla e il giudice chiamava a turno quelli che doveva giudicare prima che venisse il turno di Bawakas il giudice chiamò un dotto e un contadino i due erano in lite a causa di una donna il contadino diceva che quella donna era sua moglie e il dotto diceva invece che era la sua il giudice li ascoltò entrambi rimase un momento in silenzio e poi disse lasciate qui da me questa donna e voi tornate domani quando i due se ne furono andati entrarono un macellaio e un mercante d'olio il macellaio era tutto sporco di sangue l'altro tutto unto il macellaio teneva in mano del denaro il mercante d'olio teneva il macellaio per un braccio disse il macellaio io ho comperato da quest'uomo dell'olio e ho tirato fuori il borsellino per pagare e lui mi ha ferrato la mano e voleva prendermi il denaro così siamo venuti da te io tengo in mano il borsellino e lui tiene il mio braccio ma il denaro è mio e lui è un ladro replicò il mercante d'olio non è vero il macellaio è venuto da me per comprare dell'olio quando gliene ebbe versato una brocca piena egli mi pregò di cambiargli una moneta d'oro io tirai fuori i soldi e li posai sul banco allora lui li prese e tentò di fuggire io l'ho afferrato per un braccio e l'ho condotto sino qui il giudice restò un momento in silenzio e poi disse lasciate il denaro qui e tornate domani quando giunse il turno di Bawakas e dello storpio Bawakas raccontò come erano andate le cose il giudice ascoltò e poi interrogò il mendicante il mendicante disse non è vero io passavo a cavallo per la città costui stava seduto in terra e mi pregò di farlo salire l'ho fatto salire sul cavallo e l'ho condotto dove gli occorre andare ma egli non ha più voluto scendere e ha detto che il cavallo era suo non è vero il giudice riflette e poi disse lasciate questo cavallo e tornate domani l'indomani molta gente era radunata in tribunale per sentire come il giudice avrebbe sentenziato entrarono per primi il dotto e il contadino prenditi tua moglie disse il giudice al dotto e al contadino siano date 40 bastonate il dotto si riprese la moglie e il contadino ebbe la sua punizione poi il giudice chiamò il macellaio il denaro è tuo disse al macellaio poi indicò il mercante d'olio e sentenziò e a lui siano date 50 bastonate allora furono chiamati i bahuacas e lo storpio sapresti riconoscere il tuo cavallo tra altri venti? chiese a bahuacas certo e tu sapresti? anch'io rispose lo storpio vieni con me disse a bahuacas il giudice andarono nella scuderia bahuacas indicò immediatamente il suo cavallo tra gli altri venti poi il giudice fece andare nella scuderia lo storpio e ordinò anche a lui di indicare qual era il suo cavallo lo storpio riconobbe il cavallo e lo indicò allora il giudice tornò a prendere il suo posto e disse a bahuacas il cavallo è tuo prendilo e allo storpio siano date 50 bastonate dopo le sentenze il giudice si avviò verso casa e bahuacas lo seguì che vuoi? non sei forse contento della mia decisione? gli chiese il giudice sì sono contento rispose bahuacas soltanto vorrei sapere come hai fatto a capire che quella donna era la moglie del dotto e non del contadino che i denari erano del macellaio e non del mercante d'olio e che il cavallo era mio e non dello storpio per quanto riguarda la moglie l'ho capito così questa mattina l'ho fatta venire da me e le ho detto che riempisse d'inchiostro il mio caramaio essa l'ha preso e l'ha lavato svelta e vi ha versato in fretta l'inchiostro vuol dire che era abituata a farlo se fosse stata la moglie del contadino non l'avrebbe saputo fare quindi aveva ragione il dotto per quanto riguarda il denaro ecco come ho fatto ho messo quel denaro in una tazza piena d'acqua e stamattina ho guardato se sull'acqua galleggiasse dell'olio se il denaro fosse stato del mercante d'olio sarebbe stato sporcato dalle sue mani unte ma sull'acqua non c'era traccia di olio quindi il macellaio diceva la verità per il cavallo era più difficile sapere tanto lo storpio quanto tu avete riconosciuto tra venti altri il cavallo ma io non vi ho portati nella scuderia per vedere se riconoscevate il cavallo bensì per vedere chi di voi due sarebbe stato riconosciuto dal cavallo quando tu ti sei accostato all'animale esso ha girato la testa e la protesa verso di te ma quando lo storpio l'ha toccato ha abbassato le orecchie e ha sollevato una zampa ho capito da questo che il vero padrone del cavallo sei tu allora Bawakas disse io non sono un mercante ma il re Bawakas sono venuto qui per vedere se è vero ciò che si dice di te e ora so che sei un giudice saggio chiedimi quello che vuoi e io ti ricompenserò rispose il giudice non ho bisogno di ricompensa sono già abbastanza felice che il mio re mi abbia lodato non ho bisogno di ricompensa non ho bisogno di ricompensa non ho bisogno di ricompensa